A Night to Remember ha stupito sia il pubblico che la critica, che in buona parte lo aspettavano al barco per scagliarsi per l'ennesima volta contro il publisher brut e cattivo, reo di cercare il profitto come ogni normale azienda. Adesso però viene il difficile, mantenere alta la qualità dopo un ottimo primo episodio. Vediamo quindi come sarà sonoclavata gli strani gentiluomini con rubble without a cause. Facciamo subito un bel passo in avanti, dato che in linea temporale questo episodio si svolge molto dopo il primo. Dopo aver vinto il torneo per diventare cavalieri del regno Daventry, ritroviamo infatti Graham, fresco di incoronazione dopo la sua ricerca dei tre tesori perduti nel primo storico episodio della saga, alle prese con il classico peso della corona, reso ottimamente da una spastosa introduzione. E lì a poco però ci ritroveremo imprigionati nelle caverne dei Goblin, in compagnia dei nostri fedeli sudditi. Da bon re e Graham dovrà quindi trovare una via di fuga per sé e per gli altri, facendosi carico delle responsabilità che il suo ruolo richiede. Bene, partiamo da lati negativi. Essendo interamente ambientato in una prigione sotterranea, la varietà è molto minore rispetto al primo episodio. Non parlo solo di locazioni, ma anche di situazioni. Il ritmo è infatti molto più lento e mancano completamente quei momenti più movimentati che abbondavano invece del primo, come la gara a cavallo o la fuga dal drago. Aspettate però a stracciarvi le vesti e ad inveire, dato che un motivo per tutto questo c'è. Gli Odd Gentlemen hanno infatti deciso di strutturare questo episodio in modo molto più adventure, e in effetti questo titolo ricorda lontanamente il terzo episodio della serie, dove oltre all'enigmi, a metterci bastoni fra le ruote c'era anche il fattore tempo. Tranquilli comunque, il gioco non scorre in tempo reale. Ogni volta che andremo a letto, il tempo scorrerà in avanti di un giorno. Giorni che comunque sono limitati, e dentro i quali dovremo trovare una via d'uscita e soddisfare i bisogni dei nostri amici, cibo soprattutto. I nostri compagni di prigionia sono infatti dotati di una barra dell'energia espressa in cuori, il cui numero calerà di giorno in giorno, e raggiunto lo zero, vedremo lo sventurato portato via in barella verso un destino sconosciuto. Dovremo quindi far uso anche di un pizzico di strategia, per decidere come usare le poche risorse a nostra disposizione. Cosa dovremmo fare? Nutrirci noi stessi in modo da rimetterci in forze ed avere accesso a nuove locazioni, o consegnare il cibo ad un personaggio, che così facendo potrà stavolta rendersi utile, preparandoci magari una pozione? Chi dovremo curare con l'unica medicina che stiamo riusciti a trovare? Non c'è una soluzione giusta o sbagliata, ma in base alle nostre decisioni andremo incontro alle inevitabili conseguenze e la soluzione dei puzzle cambierà in base alle nostre scelte e dalle risorse a nostra disposizione. Puzzle che riescono anche a non essere troppo facili o scontati, e che anzi sono piacevoli da risolvere. E' quindi palese che l'episodio ha notevole rigiocabilità, e che sebbene la sua durata sia minore rispetto al precedente, diciamo 3 ore, se vogliamo raggiungere il finale nel miglior modo possibile, dovremo mettere in conto diversi tentativi. Io ad esempio ho rigiocato per tre volte prima di riuscire a trovare un modo di arrivare alla fine senza lasciare nessuno indietro, a parte l'unico personaggio obbligatorio. A tal proposito ho accolto con gioia la possibilità di saltare dialoghi con la pressione di un tasto, in modo da velocizzare le seconde partite. Una critica può e deve essere mossa invece alla trama, che compie pochissimi passi in avanti, limitandosi a mostrarci, non sempre in modo convincente, un Graham dubbioso sul modo di comportarsi dal re. Promossi invece goblin, spassosi nel loro basare interamente le loro vite sulle favole, cercando di ricrearle nel modo più fedele possibile. Avremo quindi a che fare con un goblin sul pisello, come la più famosa principessa, o alle prese con la famigerata scarpetta di cristallo di Cenerentola, ed è incredibile come risultano inespressivi pur essendo del tutto privi di espressione e di un linguaggio comprensibile. In definitiva, pur essendo inferiore al primo, questo secondo episodio mi ha convinto con la sua struttura più aperta, e adesso non resta che aspettare il terzo, per vedere quale approccio sceglieranno gli Odd Gentlemen.